Ciao sono Duccio, membro dell'Associazione Ci Incontriamo e insieme a molti altri partecipo alle varie attività che questo gruppo si impegna a portare avanti. Quello che facciamo è promuovere l'incontro, la condivisione, la relazione tra le persone, facendo particolare attenzione a coloro che si trovano in una posizione piuttosto svantaggiata dal punto di vista della cosiddetta normalità. E lo facciamo attraverso diversi tipi di laboratori, dei quali puoi trovare più dettagli sulla nostra pagina su Eppela, nella descrizione del progetto o comunque seguendoci su Facebook. Ad oggi i laboratori attivi sono 7, ognuno completamente gratuito per chi partecipa e altrettanto gratuitamente offriamo un servizio di trasporto per chi non è in grado di raggiungere il ginocolomio. Ed è a questo punto che serve il tuo aiuto, affinché tutto questo possa continuare ad andare avanti in maniera sempre più solida, a sostegno della crescita della comunità in cui viviamo. I motivi sono tanti, come ad esempio offrire piccole opportunità a coloro che si trovano un po' relegate ai margini, contribuire allo sviluppo di una comunità più ricca grazie all'inestimabile valore della diversità, ma alla fine il motivo più importante è che in un mondo più allegro si vive meglio, tutti quanti.